Sono 2469 le persone decedute nel Comune di Prato nel 2020, è il numero più alto degli ultimi 5 anni. In particolare rispetto al 2019 sono 339 unità in più, pari a quasi il 16%, mentre rispetto al 2018, che fino a oggi era stato l'anno peggiore, con 2287 morti, 182 in più. I dati pubblicati dall'Ufficio Statistica del Comune di Prato non indicano le cause dei decessi, ma è chiaro che questi numeri sono influenzati dall'emergenza Covid, che ha pesantemente caratterizzato il 2020. Basta dare un'occhiata all'andamento mensile dei morti. Ottobre, novembre e dicembre registrano dei forti aumenti rispetto agli altri mesi alla media annuale, che pari a 205 unità. Novembre è in assoluto il mese peggiore, con 309 decessi, un numero alto che non ritroviamo in nessuno dei 12 mesi delle ultime 5 annualità analizzate, e ben al di sopra del totale registrato nel novembre nei precedenti quattro anni, dove la media era di 187 decessi. Seguono ottobre con 249 morti e dicembre con 246. Gli altri mesi, sopra quota 200, sono marzo e aprile, che non a caso coincidono con il primo picco della pandemia. Entriamo nel dettaglio. Il 78,6% dei 2.469 morti registrati nel 2020 erano residenti nel Comune di Prato. Il 12,35% viveva negli altri comuni del Pratese, il 4,17% nella provincia di Firenze, l'1,86% in quella di Pistoia, lo 0,69% dal resto della Toscana, l'1,3% nel resto d'Italia. L'età media al momento del decesso era di 81,31 anni, simile a quella degli ultimi 5 anni. La quasi totalità dei morti è italiana, ben 2.409 persone, 25 i cinesi, 12 gli albanesi, 9 gli africani, 4 altri asiatici e per poche unità altri paesi comunitari e nonna.